ma porca miseria sono le tre e mezza e questo qua non c'è ancora svegliato luca luca ma cosa? perché mi hai svegliato? perché mi sono svegliato? perché sono le tre e mezza ora ad aprire con le finestre che ho giorno ma figurati ma no luca sono le tre e mezza ma come le tre e mezza del mattino? no luca di pomeriggio ho provato a chiamarti anche stamattina e tu non ti sei svegliato? a pranzo non ti sei svegliato? sono le tre e mezza luca mi spiace abbiamo ancora 5 minuti ci vediamo la merenda allora saltare la merenda non so cosa dirti ci sicuro 5 minuti va bene mi arrendo ti svegliere stasera ghiro che non sei altro sveglio luca che mattina buongiorno luca buongiorno luca buongiorno luca io ci sono le luci è mattina ma ma che? sono le 5 e mezza io andavo a scuola ma come andavo a scuola? eh luca che ora è una metro? ma tu non sei un quarto come sei un quarto? sono le 5 e mezza dai luca come è che dopo dovrò anche ripostare scienze che forse mi interroga esatto con la sfiga che mi interrogera sicuramente esatto quindi ti conviene far presto intanto devi fare una colazione io va bene? va bene io vado in buono colazione a doppia stamattina? sì dai 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 oh ma raga oggi è lunedì 15 al mercato ma no luca è lunedì oggi ah no oggi è martedì o è massimo mercoledì ma guarda l'illuminazione su me è giovedì cosa stai dicendo? ma no allora è sabato eh certo no aspetta guardiamo sull'agenda vai guarda sul calendario sì no raga oggi è domenica ma come domenica? erano ben tutti quindi sì sì ragazzi è proprio estate già meno male ma ci rendiamo conto dei giorni no eh già viva l'estate sì sì lo dico io sto studiando chimica perché forse mi interroga una forse non c'è la profe speriamo che non ci sia vai vai buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno state studiando vedo sì sì bravi ottimo sapete cosa c'è la verifica di storia? sì bene avete studiato? sì occhio è che ci sono delle domande abbastanza difficili prendete fogli e scrivete la data di oggi 16 settembre 2017 8 0 1 23 secondi oh e anche oggi forse si va in piscina tanto non c'è niente da fare chiedendo ai miei amici se anche oggi vengono wey nari che chi di voi oggi viene con me in piscina non è abbastanza attraente wey nari oggi con sei ragazze vado in piscina che chi di voi viene? e anche oggi si fa il pienone caspita devo chiedere i compiti dei miei compagni di classe visto che non li ho fatti ora che chi chiama la matematica? chi è quel bravo eroe? dai su così dopo io mando geografia e poi soprattutto chi è che domani si offre a scienze? cioè io proprio non ho sbatta di studiare ma devo fare un video vabbè dai fatemi sapere ciao ok perfetto corri 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 1% 1% a mezzogiorno 1% ma si può ah finalmente tra videochiamate chat instagram youtube era scarico meno male è arrivato Luca ciao Alisa come va? bene e te? va bene dai tutto bene a scuola ho preso 7 in piscina grande Tarisa invece come hai andato a scuola? bene mi ha consegnato la verifica di matematica e ho preso 10 davvero? grande complimenti vediamo un po' di messaggi qua ma ce l'hai ancora al 99% eh si ce l'hai ancora al 99% è vero che sono le 3 del pomeriggio però sono stata a scuola quindi non ho potuto usarlo eh non è come l'estate e manca tanto l'estate anche ue ragazzi è tardissimo sapete che ne sono? no sono le 2 di notte le 2? cosa? cioè capite che domani non ho andato a scuola però eh vabbè dai ecco l'andrata o meno su un'estate 5 minuti no basta dai ragazzi almeno ci mettiamo sul lettone vabbè ok si guardate buonanotte notte e latte eh eh i pigiami? vabbè ciao 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 è che non fai così eh non fai così notte e latte dai manchia con noi dai yeah estate buonanotte a tutti notte 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 guarda adesso ho votato il tuo record adesso io batterò il tuo sì certo, i luci ci vogliono domani vedrai ragazzi è ora di spegnere i telefoni e andare a mettersi il pigiama quando andrà a dormire ragazzi è un quarto alle 10 ma è già così tardi? a 5 e mezzo non mi hanno tenuto di sbagliarmi l'estate era molto meglio adesso siamo in minera dai da mettere in pigiama mi faccio dormire sul lettone? vai è bello, è una gioia bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su se anche voi che volete l'estate 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 ci manchi scriveteci qua sotto con un commento per la scena che vi è piaciuta di più e iscrivetevi anche ai nostri instagram che troverete qua sotto in descrizione lucasgmweb cecilia pescioccia e marco puntazzanotti ciao marco ciao è il regista preferito anche perchè è l'unico è l'unico ci ho trovato lì per strada e noi ragazzi nel luogo di pasqua ci vediamo in un altro video e ciao belli ciao 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 ciao